buongiorno l'ho detto un po sottovoce perché sapete il sabato santo è contrassegnato sia la giornata che la preghiera dal silenzio in questo silenzio però io oggi vorrei ricordare tutte le famiglie che hanno perso qualche persona cara e le voglio affidare alla madonna la madonna addolorata lei che ha sofferto ha perso suo figlio morto in croce sia il conforto e il sostegno per queste famiglie però il silenzio di oggi sia un silenzio non vuoto vuoto sì di parole inutili e di cose inutili ma col pensiero per la preparazione alla veglia di questa notte perché la notte come dice il canto questa notte non è più notte davanti a te il buio è chiaro e risplende come luce ci ritroveremo insieme a vivere questo momento bellissimo questa notte chiedo al signore che con l'aiuto dello spirito ci rafforzi la fede ci riempie il cuore di speranza perché per vivere questa vita nuova che gesù ci ha conquistato grazie alla sua morte e risurrezione buona pasqua siate lieti gesù è risorto ed è con noi auguri